Ciao a tutti, abbiamo l'ultima informazione di Italia che ieri per la notte ci sono mille persone morte, ci sono mille adesso. Ma guardi, nel questo momento molto difficile chi sta aiutando? Esatto, sono i medici cubani, sono i medici di Russia, sono le forze armate russe che stanno aiutando. Oggi abbiamo visto come loro stanno lavorando nella città di Bergamo, ma OTAN non fa niente, anche Inglaterra, Germania. Ma nel questo momento molto difficile le persone che sono qua sono i dottori, i medici cubani, anche russe. Ma guardi che dicono i tedeschi, dicono che è una campagna di disinformazione, cagacazzi tedeschi.